Benvenuti in questo nuovo video. Nonostante ogni anno facciamo sempre video di consigli per quanto riguarda le festività natalizie, per garantire la massima sicurezza al nostro cane e al nostro gatto, ci rendiamo conto ancora che alcuni clienti hanno bisogno di altri consigli oppure di ripetere sempre gli stessi. Sono libera e insieme a Vincenzo a Montedicroci del Via Roma 25, prima della caserma dei Carabiniere, abbiamo un negozio dove oltre alla vendita di prodotti per cani e gatti e quindi di articoli natalizi per questo periodo per i nostri amici a quattro zampe, ci occupiamo di garantire al meglio la sicurezza del cane e gatto, dando consigli ai loro proprietari su come gestirli al meglio e come accudirli. Allora siamo in procinto della vigilia di Natale. Oggi ne abbiamo 20 dicembre e tra quattro giorni avremo la prima festività, quella di trascorrere in famiglia la prima festa del Natale. Quindi parliamo del cenone natalizio. Come comportarci se abbiamo in casa un animale domestico oppure come comportarci se andiamo a casa di qualche parente e dobbiamo portare con noi il nostro animale domestico. A cosa devo rinunciare? Libera, devo rinunciare a qualcosa? Cosa dici di fare? Dimmi come. Aiutarlo in modo che non si spaventi delle persone, degli imitati che vengono a casa oppure non si spaventi in un altro ambiente che non è il suo. Dobbiamo rinunciare all'albero di Natale? Allora l'albero di Natale come da tradizione l'abbiamo fatto l'8 dicembre quindi per chi è già stato fatto non bisogna rinunciare all'albero. L'unica cosa che dobbiamo fare attenzione è che se è un albero vero quindi abbiamo il sottovaso che ci mettiamo l'acqua dentro per mantenere questo abete fresco dobbiamo far sì che il nostro cane eviti di avvicinarsi al sottociotola e di bere quell'acqua. Invece se abbiamo un abete artificiale oggigiorno hanno i piedi molto stabili quindi dovremmo avere nessun problema se il cane si avvicina. Logicamente quando noi prepariamo, addobbiamo casa a Natale, l'albero di Natale tendiamo sempre a metterlo vicino a qualche finestra in modo da vedere queste luci anche dall'esterno. e quindi magari scegliere quel posto, quella finestra dove il nostro cane poi non esca quindi non è il solito balcone dove il nostro cane si affacci. Questo è uno dei piccoli consigli che diamo specialmente se abbiamo palline di vetro logicamente tenderemo a metterle più in atto in modo che se casualmente il nostro cane si avvicina anche con la coda scodinzolando non la butti a terra e quindi uno non si rompe la pallina di vetro ma soprattutto il nostro cane non si faccia male ferendosi. Cosa c'è a Natale di buono? A Natale c'è tutto di buono. Iniziamo a partire dei dolci. Rococo, mustaccioli, bottoni, struffoli sono godure. Per noi umani oltre a farci mettere peso, quindi qualche chilo di troppo, quindi a farci ingrassare per i cani dolci a base di cioccolata sono veramente velonosi. Anche la piccola cioccolata che magari troviamo nel calendario dell'avvento. Questo perché? Perché la cioccolata più è scura, quindi più è fondente, più ha un'alta concentrazione di teogromina che sarebbe una sostanza all'interno che può provocare al nostro cane effetti collaterali come diarrea, crampi, convulsioni e se ingerita a grandi quantità può essere anche letale. Quindi cosa dobbiamo evitare? Evitare di tenere a portata di mano questi dolciumi specialmente ricchi di cioccolata ma anche gli altri perché comunque tipo gli struffoli contengono miele e sappiamo che i cani non devono mangiare zucchero lo stesso i roccocò e gli altri dolcini natalizi. Quindi questa è un'altra raccomandazione. Se abbiamo un vassoietto magari su un tavolo e abbiamo tipo un cane molto ingordo come può essere un labrador, un gold retriever e tendi a saltare sul tavolo e quindi immagina la scena, tu stai in cucina preparando i manicaretti di Natale e il tuo cane all'improvviso salta sul tavolo per prendere questo dolce evitiamo magari di tenerli tra virgolette a para vista, cioè in esposizione. Prendiamoli, teniamoli in un cassetto, in un mobile e poi al momento opportuno uscirli fuori e quindi darli agli invitati o degustarli stesso noi. Questo è un altro consiglio. Il terzo consiglio è quello delle piante di Natale ma devo rinunciare al vischio, devo rinunciare alla stella di Natale a me piace tenere la stella di Natale in casa perché è proprio l'augurio del Natale oppure libera a me quest'anno è il primo anno che mi sono sposata come tradizione voglio mettere sotto l'arco un po' di vischio perché poi con mio marito mi voglio dare quest'augurio sotto al vischio oppure a me piace sempre tenerlo in casa questo vischio allora le piante sono tossiche per i cani come la cioccolata può provocare effetti dannosi come crampi e dolori al nostro cane e poi se mangiata sempre in quantità molto elevate possono portare alla morte quindi cosa fare? Se abbiamo una stella di Natale e invitiamo un nostro parente con un cane l'accortenza è quella di prendere questa stella di Natale e metterla sopra elevata quindi sopra un mobile il vischio che noi appendiamo sotto magari circola un animale in casa o che sia stato imitato o che il nostro quando appendiamo il vischio cerchiamo di mettere da sotto almeno per quanto riguarda i rametti più in basso un po' di pellicola in modo da trattenere questo vischio e il risultato sarà sempre lo stesso quindi ci garantiamo il nostro bacio ma garantiamo soprattutto la salute al nostro amico a quattro zampe ma cosa succede alla vigilia di Natale quando abbiamo un cane in casa e sente tutti gli odori, i profumi, degli arrosti magari qui a Monte di Procida la tradizione è quella del pesce, di mangiare pesce cosa succede? Allora partiamo dal presupposto che il cibo condito fa male sia al cane che al gatto è molto speziato useremo molte spezie in quell'occasione quindi più spezie diamo più possono far male al nostro amico a quattro zampe nel momento in cui stiamo portando i piatti a tavola stiamo servendo la nostra cena di Natale e il nostro cane magari non se ne va in un angolino che noi già gli abbiamo preparato da solo ma vuole stare in mezzo a noi perché vuole qualcosina e inizia a guardare con quegli occhi innamorati a cuoricino e quella lingua da fuori e con quella coda scodinzolante che ci dice e dai buttami qualcosa è opportuno non dargli niente lo so è molto difficile perché sotto al tavolo ognuno di noi tenderà a dargli o la mollichina di pane oppure un po' di prosciutto oppure qualche altra cosa questo soprattutto non si deve fare uno perché lui già ha i suoi orari per quanto riguarda la sua cena quindi si è abituato a mangiare crocchette e daremo la sua cena ma soprattutto non dobbiamo dare in quanto poi se capita qualcosa proprio alla vigilia del Natale e a Natale saremo costretti a ricorrere a un pronto soccorso veterinario allora come intrattenerlo? e qui abbiamo le soluzioni puoi dare al cane se mastica un ossicino normalmente un osso diverso dal solito e non dire no a me non lo mangia perché non è vero assolutamente considera che siamo due corpi diversi e due menti diverse se il proprietario dice che il cane non lo mangia il 95% è stato visto scientificamente e che il cane invece lo mangia quindi fidatevi di noi per dire io uso questi ossetti qua al mio cane allora a Natale andrò a prendere un osso di manzo oppure un osso con gli arachidi oppure un osso di pollo e il mio cane attratto da questo nuovo sapore da questo nuovo gusto sarà lì a masticare e ne abbiamo di diversi tipi oppure possiamo dargli semplicemente un giochino che lui tenderà a mordere e a suonare e a divertirsi come ad esempio abbiamo i Kong che possono essere riempiti di diverse misure quindi lo possiamo riempire con gli snack e quindi il nostro cane tenderà a mangiarli oppure una semplice corda di diverse dimensioni logicamente dipende sempre dal cane che tenderà a masticare così lo stesso per i gatti che abbiamo diversi giochini e snack quindi la cosa cosa devo fare alla vigilia di Natale per intrattenere il mio cane ossi diversi quindi snack duraturi diversi oppure giochi diversi giochi nuovi che il cane viene attratto immagina che il cane è come un bambino l'euforia del nuovo gioco starà lì a perdere tempo questo è tutto quindi possiamo dare un gioco o prima che noi scartiamo i regali oppure possiamo dare un gioco prima che inizi la cena nel frattempo che stanno iniziando la cena oppure ancora di più possiamo prendere sia uno snack che uno gioco nel momento in cui stiamo cenando gli diamo lo snack poi quando c'è l'euforia di tutti i pacchi regalo scartati possiamo dare uno di questi giochi natalizi come dono per il nostro amico a quattro zampe quindi cosa fare il cibo deve mangiare il suo cibo quindi qualsiasi cosa sia deve mangiare il suo cibo ha un orario che noi gli facciamo fare la cena e quello deve essere l'orario deve mangiare quell'orario poi come intrattenerlo ripeto ancora per l'ennesima volta con snack e giochini solo così riusciremo ad avere una buona vigilia di natale per noi stessi e per il nostro amico a quattro zampe in tutto questo vi saluto spero che il video ti sia piaciuto quindi mettimi un like per i prossimi consigli e inoltre ci vediamo a breve per gli auguri di natale